Sono finiti agli arresti gli attivisti di ultima generazione fermati dalla polizia stradale lunedì mattina sull'autostrada Civitarecchia a Roma all'altezza di Torri in Pietra dopo l'ultima iniziativa plateale con il blocco della circolazione e numerose proteste da parte degli automobilisti fino ad arrivare a un tentativo di investimento dei manifestanti. A rendere noto il provvedimento, il primo nella storia delle manifestazioni degli ambientalisti negli ultimi due anni a Roma e provincia, sono stati gli stessi aderenti al movimento con una nota in cui si legge 12 cittadini aderenti alla campagna a fondo di riparazione di ultima generazione hanno bloccato l'autostrada a 12 per 30 minuti in un'azione di disobbedienza civile non violenta. Dopo pochi istanti un automobilista ha consapevolmente investito un manifestante. Arrivata la polizia le cittadine sono state portate in questura alle 20 è arrivata la notizia che Riccardo, Azzaria, Leonardo, Beatrice, Nere, Giordano, Mattia, Filippo, Emma, Massimiliano, Simone e Filippo sono stati prelevati e rinchiusi in diversi carceri di Roma. Dopo due notti passate dietro le sbarre verranno processati per direttissima oggi a Civitavecchia.